Benvenuti ragazzi sono Gioe con il settimo episodio del Gioe Dice e in compagnia di me ci sono tutti questi ragazzi, salutate! Ok Gioe Dice zitti tutti e rimettetevi in fila, Flo muovi subito eh, ok, ora facciamo un piccolo test audio, Gioe Dice saltate Gioe Dice abbassatevi Ok, alzatevi Ok, ecco, saresti morto Ok queste qua sono le regole, voi dovete fare tutto quello che vi dico solo se dico Gioe Dice Ok, partiamo col gioco ragazzi Ok, alzatevi pure Ok Gioe Dice alzatevi Ok Gioe Dice, oh Aspetta questo non si... Mi... Mi cette Alex A cosa stai guardando? Allora facciamo così ragazzi Come ti sembra stare abbassato? E fugge! Ok, parte via Ma cosa fa? Boh, lui così da nulla parte se ne va via Oh, perché qua se si muove? Allora Styler ti faccio un gioco, questo gioco si chiama ti sparo in testa E non ti ho preso, però vabbè fa niente Ok ragazzi Gioe Dice guardatemi tutti negli occhi, guardatemi tutti, seguitemi con lo sguardo Ok, ok Ragazzi Gioe Dice venite tutti qua Qua al centro, tutti qua al centro Ecco, questo che sta crashando Oddio, guardate questo come tipo Michael Jackson Ok ragazzi ascoltatemi bene, ascoltatemi bene Ascoltatemi bene Gioe Dice zitti tutti io vi sgozzo Ok Gioe Dice Scegliete una piattaforma tipo questa, questa, così E andateci Gioe Dice scegliete una piattaforma e andateci Tutti quanti deve aver scelto una piattaforma Oddio ci sono gli one No no, chi è che ha cambiato Questo ha cambiato piattaforma, però Sto qua è infame, non va bene Avevo detto tutti Ok Ok Ragazzi questo qua è da sole Dice qui, ne sei il mio amico preferito Eh, ti sei spostato dalla piattaforma però Ok Gioe Dice E seguitemi No Ho lanciato un trucco Non ho preso nessuno Oddio Allora ragazzi Gioe Dice seguitemi Venite tutti Va bene che Wanya New che mi ha aggiunto gli amici Ragazzi sono famoso Allora ragazzi Gioe Dice mettetevi tutti sull'orlo E fare tipo un angolo qua Avete capito? Gioe Dice mettetevi tutti sull'orlo Tutti quanti Proprio l'orlo Finchè non cadete Quines ti sto già ammazzando Quines ti sto già ammazzando Va bene Ok ragazzi Allora Gioe Dice Guardatemi tutti Gioe Dice abbassatevi Alzatevi Gioe Dice Scegli tu se buttarti in acqua O ti uccido io Fa niente Ok ragazzi Gioe Dice Alzatevi Gioe Dice Mettetevi sensibilità 14 E toglietemi Rassistita Cosa fa stream? Stream va indietto Ok, Gioe dice guardate tutti verso il cielo Questo si sta... Eh, Flo ti consiglia di andare sull'orlo, Flo Ok, Gioe dice guardate in aria e girate verso destra Ok, abbassatevi Madonna, quanti kill avrei fatto Allora te e te Vi siete abbassati senza che ho detto Gioe dice Ok, Gioe dice guardate in aria e continuate a girare Gioe dice guardate in aria e continuate a girare Stream Gioe dice, ok Ragazzi continuate a girare Destiny non stai girando velocemente Destiny è lento Destiny ti sto per uccidere Ok, ragazzi mentre girate Gioe dice fate uno scatto in avanti Gioe dice fate uno scatto in avanti Gioe dice twin head fai uno scatto in avanti Dai ma non cade Gioe dice fai uno scatto in avanti Perché continuate a girare Oh ma non cade Gioe dice fai un altro scatto Gioe dice twin head fai un altro scatto Ok 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 ragazzi Gioe dice tutti fermi Tutti fermi Ma come faccio ad essere qua io Fa niente Gioe dice tutti fermi e guardatemi Gioe dice tutti fermi e guardatemi Allora Gioe dice conoscete tutti i gioci dei pokemon No No Ok perfetto Gioe dice mettetevi tutti sotto di me Ah ho capito Tutti sotto di me Che cosa bella Ok Non hai detto No Si che l'ho detto Gioe dice mettetevi tutti sotto di me L'ho detto Ora cercherò di catturare qualcuno di voi Vediamo se vi prendo Ma come si straga Dai ma non muore nessuno Aia Aia Ok ragazzi Gioe dice state tutti fermi qua Assolutamente Allora Muore verranno gli approvvigionamenti ragazzi Ma ma dove vanno però Non è giusto Ok ragazzi Gioe dice Gioe dice Allora Ma facciamo le gare Ma facciamo gli equilibristi Allora Gioe dice DJ Queeness Sali sopra questo cassonetto Ora Gioe dice Sali su quest'altro cassonetto Dietro Questo cassonetto qua Gioe dice Sali su questo cassonetto Gioe dice Sali sul container rosso E adesso Gioe dice Devi saltare E finire sopra Questo coso qua Fa niente Ci devi provare Vai Fa niente Provaci Ce la puoi fare E' un ultimo tentativo Gioe dice Un ultimo tentativo Ce la puoi fare Ce la puoi fare Faccia di merda Non lo manca Oh Ok 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 Va bene Tu rimani vivo Tu rimanerai Rimanerai là Fino alla fine Ora dico Ok Gioe dice Salite sull'ambulanza Io controllo che non si muove Ok scendete Scendete dall'ambulanza Brividi Ok ragazzi Ora Dico si scappare Gioe dice scappate tutti Gioe dice scappate tutti Via Fuggete Via Ok Priviti Ok ragazzi Gioe dice nascondino Avete 10 secondi Per andare a nascondervi E appena dico stop Dovete fermarvi 10 9 8 Stop 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 Fermi dove siete Se no Gioe dice stop Se no Vi becco e va a mazzo Questo si muove Oddio No eh Sei mosso Sei mosso Va bene Quello è morto Ok Gioe dice che dovete stare immobili Fermi Non ho detto che ucciderò qualcuno Aiuto Allora Cromalfa Gioe dice stai fermo Gioe dice salta Abbassati Ok Gioe dice Eh Non lo so Tu rimarrai vivo qua Oh il prossimo che becco lo uccido Sappiatelo Oh Oh Ok Gioe dice Come vuoi morire Voglio morire Va bene Va bene ha fatto tutto lui Ok ragazzi Gioe dice Tornate al centro Gioe dice Tornate al centro Ciao Ok ragazzi Gioe dice Gioe dice Salite sopra questi Aspettate Aspettate però Prima ve lo spiego Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Ok Gioe dice Salite sopra questi Cosi qua Sdraiatevi E guardate in aria No uno Deve rimanere fermo Tutti quanti Gioe dice Fatelo Sdraiatevi E guardate verso in aria Guardate questo Com'è messo Ok ragazzi Siete tutti bellissimi Ok Siete in numero dispari Ora Gioe dice Scegliete di nuovo Un container E rimanete su quello Scegliedene uno E rimanete su quello Un container Un container sotto Cioè una piattaforma colorata Gioe dice Scegliedene uno E state fermi Da sopra Ok Basta Siete così Allora Intanto per passare il tempo Facciamo una canzone Gioe dice Stream Tu che conosci bene Il mio canale Canta La Prima Gioe dice Canta La prima Canzone che avevo Come intro Quella From Modena Vai Va bene Fa niente ragazzi Allora Cromalfa Secondo te Morirai o no Non ho detto Gioe dice Quindi non puoi parlare Ok Vediamo dove andrà Il container Dovete stare immobili Dentro il container In cui siete Se si Se vi muovete Morirete comunque Dovete riparere là Ragazzi Gioe dice Scappate Oh Stream ce l'ha fatta Ah Stream ce l'ha fatta Vai Ritornate qua Gioe dice Ritornate in centro Ok Siete tre ragazzi Siete in tre Siete i tre Vincitori del Gioe dice Siete Rehan Destiny E Stream Complimenti Ora Gioe dice Dovete scappare Aspetta Cioè quando vi dico Scappate Fatelo Ok Quando vi dico Via Quando vi dico Gioe dice Via Voi correte Più lontano Possibile Va bene Aspettate Bene bene Ok Gioe dice Via Fuggio Orca Dio Dai un saluto a Stream Che è il mio carissimo amore Che è rimasto vittima Dell'arrier Del coso Comun cazzo si chiama E Gioe dice Chi siete Destiny e Rehan Vince il più forte Uccidetevi Gioe dice Uccidetevi Vince il più forte Complimenti a Rehan Che è appena vinto Gioe dice Gioe dice Ritorna all'inizio Doveri Un altro episodio Il mio canale è in descrizione Guardalo Il mio canale è in descrizione Fai io un trick coltavo A bocca Rin non l'ha No Rin Che merda Magari Ok vabbè Fa niente Allora Gioe dice Ammazzami Se mi uccidi Vincerai la partita Se non mi uccidi Vincerò io Dai Dai che faccia di merda Che gliel'ha detto Attenzione Mi hai ucciso Ho vinto io Ragazzi Come sempre Tutte le volte Ringrazio tutti i partecipanti Tipo gli altri 60 persone Che hanno provato a partecipare Ma non ce l'ho fatta Ve lo giuro C'ho tipo 60 amici online Ora non si vede Perché c'è Esatto Lasciate Lasciate un bel like Un commento Per il prossimo episodio Gesù Vai ragazzi Salutate Vai Gioedì ci salutate Comunque ragazzi Per giocare con me Date Gioedì 8 Da Gioedì tutto Bello Cosimo